guarda cosa è arrivato cosa è arrivato è arrivato il tuo palloncino quello che mi ha lanciato però con la pressione atmosferica è diventato così uno lanciati non so il tuo palloncino no vabbè la c no io sono imbarazzatissimo come immagini ovviamente mi manchi mi manchi da morire e non bella lo so grazie no vabbè due mesi 40 comunque sono 44 giorni ma hai sentito no cioè no no lo so che sono bella lo so che sei imbarazzato e sono imbarazzatissima anch'io eh lo so lo so lo vedo hai sentito che c'è la luna la super luna e la luna rosa è la nostra luna ecco si chiama pink moon pink moon pink come chi chi allora ragazzi ciao clizia rimani sveglia ciao alfonso che bello rivedervi insieme siete bellissimi alfonso e lo so e paolo questo è il massimo che abbiamo potuto fare non poteva essere a roba guarda cosa qua guardate il rosè che cos'è un bicchiere due bicchieri iscriviti al canale